Il programma della festa della sagra del prosciutto. Avremmo un programma molto ricco perché il giorno dell'apertura che è il 10 agosto ci sarà l'Amo Betters Band e successivamente il concerto di Filippo Graziani. Si susseguiranno poi nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. Il venerdì è il giorno dedicato al Festival del Dubot, interamente curato dalla Proloco insieme al maestro Scardelletti e la sua compagnia di ragazzi. La sagra terminerà quest'anno di sabato con una cover band di Vasco Rossi. Il prosciutto che tutti quelli che verranno a Basciano mangeranno, da dove arriva? Dove lo prendete? Allora, il prosciutto che le persone mangeranno a Basciano è un prosciutto diverso rispetto a quello che magari si compra al supermercato perché tutti quanti si chiedono come mai andare alla sagra del prosciutto, il prosciutto si può comprare anche al supermercato. Non è così perché, prima di tutto, è una filiera completa che è un prosciutto abruzzese stagionato per molto più tempo rispetto alle normali stagionature. I prodotti sono tutti del territorio, tra Castelcastagna, Basciano, Sant'Egidio. Comunque sono dei produttori del territorio, del Terramano. Quindi è un prodotto di qualità, è un prodotto alla quale noi siamo molto legati e siamo felici e fieri di poter far assaggiare un prosciutto che non si può mangiare al supermercato. Quanto ne consumate di solito? La sagra quanto prosciutto consuma ogni anno? Allora, in piazza ci sono quattro stand. Bene o male una media va dai 60 ai 90 prosciutti totali per stand, quindi per quattro. Quindi sono molte molte quantità di prosciutto.